Salve e ben trovato all'appuntamento col tempo a cura di Mediocalabria.net Diamo subito uno sguardo alla grafica di tendenza per questo weekend di carnevale Vedete questo minimo di bassa pressione contornati dai simboli del temporale delle nevicate che sarà il principale responsabile del maltempo previsto per le prossime ore sulla Calabria ionica quindi a partire dal basso ionico fin verso l'alta Calabria Ci saranno delle piogge e delle nevicate sui rilievi specie quelli posti più allevanti In sintesi le previsioni per domani sabato 10 febbraio e per domenica 11 Dalla cartina quindi notiamo questa instabilità specialmente sull'area orientale della Calabria con piogge per lo più persistenti e nevicate su tutti i rilievi della Sila, delle Serre e della Spromonte specialmente quelli posti più allevanti Generalmente oltre 1000-1100 metri di quota È prevista una lieve attenuzione dei fenomeni a partire dal tardo pomeriggio sera Sul versante tirrenico invece le condizioni al tempo saranno migliori con delle piogge debole o tutt'al più moderate quindi niente di che rispetto a quello che dovrebbe succedere sul versante ionico I mari saranno agitato il Mar Ionio, molto mosso il Martirreno, venti forti da tramontane in rotazione poi a maestrale nel corso del pomeriggio Temperature il lieve calo Prima di passare alla previsione per domenica 11 febbraio Vediamo il solito proverbio meteorologico locale Grazie Zio Pino e vediamo in breve la previsione per domenica 11 febbraio Ecco dall'immagine come sarà una situazione pressoché diversa rispetto a quella che vivremo nella giornata di sabato La ventilazione ruoterà ponente quindi molto umida dai quadranti occidentali Possibili debole ed irrisore pioggia ancora sul medio e basso tirreno specie sulla Spromonte con buona probabilità di nevicata alternata a qualche schiarita sulla Sila, sulla Serra e Vibonesi e sempre sulla Spromonte generalmente oltre ai 1100 metri di quota I mari saranno tutti poco mossi, mosso solo l'Alto Ionio Bene, per oggi è tutto Ricordiamo che per ulteriori dettagli potete consultare il nostro sito www.meteocalabria.net la nostra pagina facebook meteocalabria.net e siamo presenti anche su Instagram e su Twitter Grazie per l'attenzione e arrivederci Grazie!